Musica Forza! Forza! E' la politica purtroppo non sapevo... ...e l'Italia tutta da questo malaffare, da questa andrangheta, da queste collusioni politiche e istruzionali. Basta un paese di corrotti, perché la corruzione è uguale all'andrangheta. Via i magistrati! Via l'istituzione con l'USC! Via! Vi ho fatto condannare anche un magistrato e per questo faccio paura. Oggi non si parla di politica, ma la politica è una cosa dobbia per chi la sa usare. Per questo messaggio non ce n'è per più nessuno. Se basta il messaggio che tutti noi siamo le donne e gli uomini e le forze delle donne. Siamo i giornalisti, ce ne sono tanti, ne conoscono molti, sono persone per bene, che hanno il coraggio di un'altra narrazione. Se questa piazza diventa ciò che insegna, ciò che insegnava Lorenzo Milani, il tuo collettivo, forse potremmo scrivere insieme un'altra pagina, una pagina diversa della nostra terra. Non lo credo proprio, non lo credo neanche nell'ultima operazione, una delle ultime. rinascita sport, non ci sono imprenditori che in questo territorio possano essere franchi, dove l'andrangeto non è arrivato, non è vero. Oggi noi dovremmo fare la fila davanti alla procura, la fila, perché tutti noi, tutti noi cittadini, tutti noi calabresi, non lasciamo il procuratore e la procura di Cananzaro a se stessa. Oggi dobbiamo essere tutti i piedi di loro e essere tutti trattivi, tutti noi. Grazie a voi, grazie a voi tutti. Grazie a voi. Non lasciamo il procuratore e la procura. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi.